l'orario ufficiale, questo è stato il motivo del... erano in anticipo problemi per Rumor Room partiti in questo istante cerca di andare davanti Regina Prad all'interno c'è il raggio di luce all'esterno Rossellina Regina Prad che vuole scavalcare il raggio di luce che però vorrebbe rientrare ma Regina Prad insiste e passa a condurre sul raggio di luce 200 metri in 13,6 le posizioni, davanti Regina Prad secondo in corda raggio di luce poi Rossellina, Rakelgar, Right Way e LF mentre hanno sbagliato il 6 di Rumor Room e il numero 9 Runei Mark sposta Rakelgar sul rallentamento del battistrada che percorre in 28,5 i primi 800 metri Rakelgar che viene anche richiesta per andare a pressare su Regina Prad cavalli dopo 600 in 44,6 Regina Prad al comando Rakelgar che cerca di sfondare ma Regina Prad reagisce per il momento non si riesce a passare parziale in 14,6 raggio di luce guidabile lì secondo mentre Rossellina è terza Rakelgar adesso insiste Regina Prad prima voleva tenerla poi Rakelgar però fa capire che vuole passare e dopo un parziale in 14,8 e nuova battistrada Regina Prad ora è seconda raggio di luce terzo poi Rossellina quando i cavalli attaccano gli 800 metri conclusivi si va svelti adesso anche se questo è un parziale in 15,8 raggio di luce che va ai fianchi di Rakelgar che deve reagire ha spostato anche Rossellina l'anticipo su Raissa Sere Cavalli che sono adesso sulla penultima curva con Pacileo che parlotta con Battistini quindi lungo la corda Regina Prad raggio di luce però forza su Rakelgar in mezzo alla pista prova a venire anche il numero 7 Raissa Sere che sta stracorrendo parziale svelto davanti alle tribune tutti con la frusta in avanti Rakelgar raggio di luce però i più decisi per il momento poi Rossellina in attesa lungo la corda sta cedendo Regina Prad quando si entra in retta d'arrivo Rakelgar e raggio di luce sempre le prese interviene a largo Rossellina raggio di luce, Rakelgar e Rossellina i tre a lottare per il successo guardate che arrivo tutti a fruste alzate Rossellina all'esterno di tutto sta passando Rossellina che va a vincere su Rakelgar poi Rakelgar la vittoria per Rossellina è Marco Pettinari 1'16'2 sul doppio chilometro Rakelgar è passata con un po' di spesa ma non ha reagito all'affondo di raggio di luce che a tamburo battente l'ha messa alle corde ma poi è arrivata il terzo incomodo Rossellina ben guidata da Marco Pettinari 1'16'2 la quota di 6'82 è